Stabilirò un calendario, ogni pomeriggio due o tre ore verranno dedicata a questo, tipo creazioni di rose, pressettature, tutto quello che riguarda la decorazione della copita per far conoscere questa professione che tutti conoscete perché la vedete a televisione, però che qua Fabriano ancora non è tantissimo conosciuta, oltre perché comunque è visto un altro molto all'americana, mentre io vorrei far vedere comunque si decorano le torte italiane, nel senso all'interno sono torte uscite all'italiano e all'esterno vengono decorate all'americana. Poi la piccola unità è una cosa abbastanza. Io sono il svolto di Satinice, sono stata nominata a gennaio di quest'anno e due giorni fa ho formato il contratto come testimonia ufficiale Italia, quindi sono l'unico testimonial per l'Italia. Satinice è una marca importantissima per parlare della pasta di zucchero, forse chi non è presentatore non la conosce, ma è la pasta di zucchero del boss delle torte, quei secchioni che vedete che lui usa, che hanno del marchio azzurro, è il mio marchio. Satinice mi ha nominato tra gli artisti per eccellenza di Satinice, quindi sono entrata a far parte del suo team, far parte della Satinice Academy che girerà il mondo, speriamo, per insegnare quest'arte e da due giorni ho firmato il contratto e quindi prima ero ambasciatore, quindi eravamo più persone. Ora sono l'unico testimone all'Italia, quindi ritengono di mettere fiducia in una sconosciuta, perché comunque è sconosciuta solo.